1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bene, ciao a tutti da lezione in diretta con Simona Dorazio, una new entry abbiamo studiato oggi proprio lo shuffle blues e andiamo a vedere come l'abbiamo costruito allora ritorniamo alla lezione di prima, quindi partiamo con il piatto 1, 2, 3, 4 aggiungiamo la cassa, sempre in 4 il charleston sul secondo e quarto movimento e il rullante farà la figurazione dello shuffle bravissima Simona e ora andiamo a suonare le classiche misure del blues quindi 12 misure e poi andiamo a conclusione quindi ti do il tempo e ricominciamo da capo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bravissima, abbiamo appena studiato lo shuffle blues e Simona lo esegue in modo quasi perfetto bravissima anzi mi rivolgo ai ragazzini, ai ragazzi attenzione che queste femminucce vi fanno le scarpe ok, noi vi salutiamo intanto Simona continua con il suo shuffle blues prima di salutarci ciao ciao 1, 2, 3, 4 ciao 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 ciao